Ben ritrovati, buon inizio di settimana, qui a Respubblica affrontiamo in questa prima parte dinamiche della politica provinciale e regionale soprattutto, sono con l'onorevole Dario Safina, deputato regionale del Partito Democratico, ben ritrovato, onorevole. Poi nella seconda parte parleremo di poesia con un giovane scrittore, un giovane autore che ho il piacere di farvi conoscere Roberto Fontana, ma intanto concentriamoci sulle cose brutte, terrene, materiali, che sono le questioni che riguardano la politica. Onorevole, allora, ormai a momenti di un anno si fa quasi di attività legislativa in arso. Il 10 novembre ci siamo insediati. Il 10 novembre, ma mancano 5 mesi, 4 mesi. Ormai credo che tu abbia ben compreso come funzionano le cose, no? O come non funzionano in alcuni casi? Ma la fase di ambientamento obiettivamente è finita, l'abbiamo detto anche all'ultima direzione regionale del PD, il gruppo era un gruppo prevalentemente nuovo, questo ci ha fatto scontare un po' il prezzo dell'inesperienza parlamentare, se non che negli ultimi mesi siamo come gruppo, cresciuti moltissimo, lo dimostra il lavoro che abbiamo prodotto nelle ultime sedute d'assemblea e anche nelle commissioni, dove siamo stati probabilmente la forza politica protagonista dell'opposizione al governo Schifani. Al di là delle urla, delle voci di Cateno De Luca, il PD è stato obiettivamente il gruppo parlamentare che ha impostato un lavoro di opposizione più serrato su temi concreti, dalla sanità ai vari temi che riguardano le attività produttive, il carovoli e quant'altro e poi siamo stati protagonisti anche nelle commissioni, i nostri disegni di legge sono tantissimi, adesso sono all'ordine dei lavori e delle varie commissioni, mercoledì per esempio ci sarà in discussione in commissione sanità il mio disegno di legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, abbiamo contribuito forse... Ma c'è una battaglia che proprio sin da quando eri in campagnatura... Sì, campagna elettorale, perché credo che la sanità pubblica debba assicurare il rispetto delle leggi e non è possibile che... Ma ricevi consensi su questo? Ma devo dire la verità che soprattutto il mondo dell'associazionismo femminile... No, io te devo inastica, al di là dei colleghi... Ma lo vedremo, lo vedremo, io devo dire la verità che il gruppo del PD ha sposato l'iniziativa, devo dire la verità che anche alcuni colleghi dei 5 Stelle già mi hanno rassegnato che sono d'accordo a sostegnare l'iniziativa, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane in questo lavoro di commissione, suppongo che faremo delle audizioni, ci sarà anche ovviamente sentiremo il parere del governo, però l'idea è semplice, l'idea è quella di assicurare il rispetto della legge 194 di far sì che negli ospedali pubblici ci siano i medici e il personale sanitario non obiettore affinché le donne possano vedere tutelata la salute e la loro libera scelta in una struttura pubblica e non debbano ricorrere al privato o peggio ancora debbano scappare come purtroppo questa città sa bene da un problema che è quello di una gravidanza indesiderata ovvio dicendo che può creare delle crepe notevoli nella psicologia di una donna e di una famiglia complessivamente. Vediamo se me lo ricordo bene, il disegno di legge prevede che vengano indetti dei concorsi specifici per medici non obiettori di coscienza con delle restrizioni. Non potranno diventare obiettori pena la perdita del posto, questa è la soluzione. Non è la prima volta che viene applicata questa. Non è la prima volta, abbiamo mutuato quello che si sta già praticando al San Camillo di Roma e sta funzionando perché le garanzie che offre una struttura pubblica sono sicuramente maggiori di qualsiasi altro luogo. E in più se a questo leghiamo l'attività dei consultori, l'attività di supporto psicologico alle donne che vengano a trovarsi in questa difficile situazione, rendiamo un servizio a 360 gradi e quindi consentiamo alla donna veramente una libera scelta. Certo è una battaglia di civiltà ma anche ostica, divisiva. Sarà una battaglia che in assemblea provocherà sicuramente le divisioni ma io sono convinto che la sensibilità del Parlamento condurrà l'approvazione di questa legge. Chi non la dovesse approvare si assumerà la responsabilità di avere privato le donne di un diritto, di avere privato le donne di un servizio di qualità e di avere privato la sanità pubblica di un qualcosa che serve per rispettare una mission che è questa. Stavi dicendo prima che ricevevi consensi appunto dalle associazioni di categoria. Sì assolutamente, è chiaro che come ho detto è un testo migliorabile, noi abbiamo fatto un testo con gli uffici base ma poi è chiaro che se ci sono delle cose da migliorare lo si deve fare perché nessuno ha la verità in pugno e dal confronto possono nascere dei miglioramenti. Nelle prossime settimane chiederò, l'ho già detto, il Presidente lo sa anche un incontro all'Ordine dei Medici di Trapani per sentire la loro opinione su questo e spero che il Presidente della Commissione possa organizzare una serie di audizioni e oltre che col Governo anche con le forze sociali e con gli esperti del settore affinché si possa arrivare a un disegno di legge compiuto e che rispetti la libera scelta dei medici ma al contempo i diritti delle donne. Senti cambiamo argomento, ho visto nei giorni scorsi insomma hai levato gli scudi contro Sissisi di questa iniziativa di promozione turistica che insomma non è partita proprio per come ci si aspettava. È partita male e sta finendo peggio. Eh infatti, facciamo un resovonto. Ma questa era una misura che secondo il Governo Musumeci, ma secondo Fratelli d'Italia perché in realtà l'assessorato al turismo è retto da Fratelli d'Italia oramai da cinque anni e mezzo, Maglio Messina prima e Scarpinato adesso, Maglio Messina, poi Scarpinato, adesso Amata e diciamo che il sistema Fratelli d'Italia ruota attorno all'assessorato al turismo e questa misura avrebbe dovuto portare a un incremento delle presenze turistiche. I numeri parlano chiare invece, 5 milioni di turisti in Sicilia c'erano nel 2019 e più o meno 5 milioni sono nel 2022, certo, nel 2023, nel 2022 e nel 2023, se prendiamo in carico i numeri del 2020 e del 2021 che c'era la pandemia, è chiaro che c'è stato un incremento, ma in realtà abbiamo speso milioni e milioni di euro avendo coperto una percentuale del 2% dei posti che avevamo comprato. Questo dimostra che alla fine abbiamo speso più soldi in pubblicità, circa 20 milioni di euro, rispetto ai soldi che sono finite nella tasca degli albergatori e adesso, smentendo ciò che era stato detto in aula, il governo nemmeno sapeva che gli uffici stanno iniziando a richiedere indietro i soldi che erano stati pagati agli albergatori per il pagamento dei voucher. Allora, la propaganda alla fine, la vera propaganda alla fine è come le bugie, hanno le gambe corte, la verità sta venendo a galla, quella misura non ha funzionato, è solo stato uno spreco di denaro pubblico. Per tutelare e sostenere il turismo in Sicilia c'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno dell'alta velocità, c'è bisogno del dragaggio del porto di Trapani, che sicuramente arriverà presto, ma non per il merito della regione, ma per merito dell'autorità di sistema portuale, c'è bisogno di un collegamento, di collegamenti stradali importanti, c'è bisogno per esempio di liberalizzare il trasporto su gomma, perché nelle more che vengono fatti i collegamenti e i collegamenti ferroviari tra i vari aeroporti, in particolare tra Trapani e Palermo c'è bisogno di liberalizzare il trasporto su gomma in modo tale da aumentare le tratte tra un rapporto e l'altro, in modo tale da favorire la mobilità tra i vari vettori aeroportuali e consentire quindi al turista di avere una maggiore possibilità di scelta, c'è bisogno di lavorare affinché si abbatta il carovoli, perché venire in Sicilia ha un costo notevolissimo e dunque i turisti preferiscono andare in altre regioni d'Europa, quindi Aeroitalia non è una scelta consa non è una scelta, non puoi competere, Aeroitalia non può competere con Ryanair, con Wingetti quelli producono numeri che fanno impallidire Aeroitalia e lì c'è bisogno per i siciliani per garantire la mobilità dei siciliani di mettere i soldi in tasca, come? Prevedendo i bonus per il trasporto, mettendo soldi invece che fa il governo? Il governo certifica il suo fallimento mettendo 5 milioni di euro nella contiguità territoriale, cioè quello che doveva mettere lo Stato per garantire le tratte svantaggiose, Ancona, Brindisi, che sono tratte che non producono incoming, che sono poco frequentate, quei soldi li avrebbe dovuti mettere il governo statale, invece nell'ultimo collegato alla finanziaria l'abbiamo messi noi, 5 milioni di euro, quello sta certificando il fallimento del governo statale, del governo regionale che non riesce nemmeno a far rispettare i diritti siciliani dal governo nazionale, è un fallimento, allora noi invece abbiamo bisogno di mettere soldi affinché la tariffa per i siciliani venga scontata, quindi se la tariffa è 100 euro io ti riconosco x euro di bonus che non viene data alla compagnia ma viene dato direttamente al siciliano residente nella regione, questo cosa garantirebbe? Garantirebbe ovviamente la possibilità di viaggiare, garantirebbe ai nostri studenti la possibilità di ritornare, garantirebbe ai nostri lavoratori la possibilità di tornare a casa per le festività, per le ferie e dunque è questo quello che bisogna produrre, non certamente misure e spot quali possono essere l'audizione di mister Prezzi o contattare Aeroitalia per farla venire, potrà venire un'altra Aeroitalia in Sicilia, non cambierà la tariffa, non cambieranno le tariffe perché i grandi operatori sono in condizione di dettare le regole del mercato. A proposito di soldi continuiamo a non avere certezze sui ristori per le alluvioni, anzi ormai purtroppo una certezza se l'abbiamo e non va nella direzione auspicata. No, abbiamo scoperto, devo dire la verità, l'avevo annunziato qui, se ti ricordi direttore durante una trasmissione con la Ciminisi che il governo stava bdeffando perché voleva riprogrammare i fondi POC per ristorare con soli 6 milioni siciliani, io in quelle occasioni ebbe a dire anche alla collega che quei soldi non sarebbero mai arrivati perché non sono riprogrammabili i fondi POC per pagare il risarcimento del danno. Adesso abbiamo l'impegno del governo ad approvare proprio domani o dopodomani a trattare nell'emendamento governativo, ce n'è anche uno della Ciminisi, in realtà è da 6 milioni di euro per ristorare i siciliani su fondi regionali, questi 6 milioni di euro su fondi regionali saranno sicuramente spendibili per ristorare i siciliani, in particolare quelli delle province di Trapani, Siracusa e Messina, ma sono ben poca cosa, se considerate che solo Trapani ha subito 5 milioni di euro di danni, poi c'è Marsala, c'è Castelvetrano, c'è la provincia di Messina che ha subito danni anche più ingenti della provincia di Trapani, la provincia di Siracusa e Idem, ci vogliono 50-60 milioni di euro. Allora, non è sicuramente un blef, ma è un pannicello caldo, non bastano i pannicelli caldi, perché non è che possiamo avere ancora una volta cittadini di serie B e cittadini di serie A, in altre province sono stati distanziati i soldi che necessitavano, adesso servono i soldi per i cittadini e per le imprese trapanesi e non solo, e dunque 6 milioni di euro andando incrementati, noi per esempio come PD abbiamo presentato un emendamento da 15 milioni di euro che è stato bocciato dal governo, questo vuol dire che c'è un governo che non ha volontà di sostenere questo impegno finanziario nei confronti di questi cittadini. Noi ovviamente in ogni occasione che avremo cercheremo di stanziare soldi e di far stanziare all'assemblea queste risorse, adesso ci sarà il collegato, saremo 6 milioni di euro, poi ci saranno le variazioni di bilancio, poi ci sarà l'approvazione del nuovo bilancio, in quelle tre occasioni... Ma è un governo che ha le idee chiare secondo te? Ma guarda, io l'ho detto ripetutamente in aula, è un governo che ha poche idee e confuse per giunta, lo dimostra la gestione delle questioni delle politiche sanitarie, un assessore volo che ha dimostrato più volte di non avere alcuna idea e che adesso è sottoposta diciamo al controllo del manager Iacolino, sull'attività degli aeroporti, un governo che annuncia fusioni, mentendo ai siciliani perché le fusioni non sono fattibili sino a quando non si aprirà un tavolo tecnico in quanto Aagesp non è della regione siciliana ma è del comune di Palermo, della città metropolitana e della Camera di Commercio. Quindi come si fa a obbligare un soggetto terzo a una fusione? L'unica cosa che bisogna fare è mettersi davanti a un tavolo, discutere come valorizzare gli asset, come stare insieme, come fare sinergia e dopodiché si provvede a un concambio delle azioni, ma tra soggetti che devono trattare alla pari. È un governo che sulle partecipate ha una confusione immensa, non sappiamo quello che avverrà con AST, l'AST vive una crisi senza precedenti e non abbiamo uno straccio di indirizzo su quello che il governo intende fare, ma intanto le famiglie che lavorano per AST non sanno qual è il loro futuro e in più c'è il rischio che molte tratte non vengano più assicurate come sta avvenendo in alcune province della Sicilia orientale già adesso. Fortunatamente in provincia di Trapani ancora questo fenomeno non ha avuto una ricaduta pesante ma rischia di averlo nelle prossime settimane. È un governo che non ha alcuna idea sulla tutela dei nostri agricoltori, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, ha presentato uno CMI vino che tutela solamente i produttori, benvenga che vengono tutelati gli investimenti, ma nel frattempo le terre vengano abbandonate, gli agricoltori non ci sono state le risorse per vendere in via verde, adesso ci sono poche cose per la distillazione di crisi, ma gli agricoltori delle province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta stanno vivendo soprattutto ai vitivinicoltori una crisi senza precedenti, taglieggiati dalla speculazione e la regione non sta mettendo in campo alcun intervento, invece è necessario mettere in campo un controllo della filiera che consenta di tutelare il prezzo degli agricoltori perché non è possibile che... che hanno un grande valore produttivo a pochi soldi perché... per farci non l'agricoltura, ma per farci impiati fotovoltaici, allora c'è bisogno per esempio lì di un piano che individui le aree inidonie al fotovoltaico e all'eolico in modo tale da tutelare le nostre produzioni. La battaglia del grano, non basta annunziare, fare un comunicato stampa, l'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto io, l'ho fatto io, ma il governo dovrebbe mettere in campo un controllo della filiera affinché nelle nostre tavole finisca il grano siciliano, il grano del meridione invece che il grano canadese che è pieno di glisofato e che rischia di produrre danni alle nostre famiglie. Nelle prossime ore, proprio cade a fagiolo la domanda, presenterò un'interrogazione con la quale chiedo di insediare l'osservatorio della filiera agricola affinché si eviti che il prezzo della pasta aumenta a 3 euro mentre il grano viene pagato a 25 centesimi, cioè non è possibile che i soggetti taglieggiati siano gli agricoltori e i consumatori, non è possibile che tutti quelli che stanno in mezzo della filiera possano speculare e che queste due categorie vengano taglieggiate, c'è bisogno di mettere in campo un sistema che consente di avere un prezzo equo per il consumatore e una remunerazione corretta per l'agricoltore, l'unico modo di tutelare l'agricoltura è quella di renderla produttiva perché altrimenti nessuno coltiverà più le nostre terre. Assolutamente. Parliamo un po' di politica locale? No. Perché un deputato regionale, chiunque esso sia, deve per forza in qualche maniera diventare il referente della politica del partito di appartenenza? Nel caso tuo, il partito di un'altra. Io ho sempre detto che voglio essere un dirigente tra i dirigenti, non il dirigente. Ok. La mia impostazione è questa, ragiono, provo a ragionare così, è chiaro che è inutile nasconderci, il PD vive un problema di comunicazione interna a causa, a mio avviso, di quelli che sono alcuni errori compiuti dalla segretaria provinciale, dopodiché il 7 di questo mese, quindi tra qualche giorno ci sarà una direzione provinciale, io mi auguro che al di là di quello che sarà il congresso del 2024, quantomeno si possa trovare un punto di equilibrio per poter intraprendere qualche iniziativa che non sia sporadica, perché ad oggi qualche iniziativa sporadica di circoli... L'ordine del giorno, l'ordine del 7 qual è? Faccio i fatti vostri? No, ma voglio dire, si parlerà di elezioni amministrative, un'analisi complessiva del voto e comunicazioni del segretario, ma il tema è che noi non possiamo vivere delle iniziative sporadiche di qualche circolo, abbiamo bisogno di strutturarci con un'iniziativa politica più complessiva, con un'iniziativa politica che renda visibile la nostra proposta politica, che ci consenta di spiegarla agli stakeholders e ci consenta anche di poter apprendere da quello che proviene dal territorio. Invece oggi siamo in una campana di vetro, non riusciamo a comunicare alcunché, al di là delle iniziative sparute che possono essere le mie, che possono essere quelle dei sindaci, che possono essere quelle dei consiglieri comunali o di qualche volenteroso segretario di circolo e dei circoli che ancora funzionano. Io non ho un'impostazione, noi siamo il Partito Democratico, non siamo Forza Italia, non siamo Fratelli Italia, da noi deve funzionare in maniera aperta. Ognuno di noi è un dirigente di partito e ognuno di noi svolgere la sua funzione, senza che il ruolo istituzionale, chiaro il ruolo istituzionale mi dà un grande vantaggio, mi dà il vantaggio di poter comunicare meglio con la collettività, mi dà il vantaggio di avere maggiori contatti con le categorie produttive, con i cittadini, con gli enti locali, ma questo lo voglio mettere al servizio, non lo voglio sfruttare per diventare il padrone del Partito Democratico. Non è questo il mio intendimento, mi dispiace che qualcuna in qualche intervista un po' avventata lo voglia fare intravedere, ma diciamo il lavoro che ho prodotto in questi mesi, anzi in questi 30 anni di politica dimostra che non ho mai provato ad essere autorreferenziale, ma sempre un uomo e un dirigente politico che costruisce un lavoro di gruppo. Per esempio pure a Trapani, per quanto riguarda l'amministrazione comunale? Assolutamente, il lavoro è l'amministrazione comunale e il lavoro che noi dobbiamo mettere in campo è quello di sostenere l'amministrazione comunale a, perché come ho detto all'indomani le elezioni dobbiamo ricostruire un rapporto con un pezzo di città che ci ha voltato le spalle. E in questo il lavoro del PD sarà determinante. Il PD è una forza politica organizzata che ha una sua base elettorale, è una forza politica organizzata che ha una sua piattaforma politica e ha delle donne, degli uomini di grande qualità che possono contribuire adeguatamente al governo di questa città. Io sono sicuro, anzi annullo che noi giorno 6, quando ci sarà il Consiglio, costituiremo il gruppo del Partito Democratico, lo posso già annunziare, tenendo fede a un impegno che avevamo preso in campagna elettorale e quel gruppo sarà da sprone, ma per un fatto tecnico, sarà da sprone all'amministrazione, sarà di sostegno all'amministrazione per affrontare tutta una serie di questioni che riguardano il benessere della nostra città, la crescita equilibrata del nostro territorio, la costruzione di un sistema di rapporti tra amministrazioni locali che possa affrontare il tema dei rifiuti, dell'ambiente, il tema dell'acqua, il tema dell'utilizzo del territorio, il tema dell'abbattimento, dello sconfiggere le disuguaglianze, tutte questioni che riguardano il PD. Tutto questo però per quanto riguarda Trapa è in attesa di capire che fine faranno i ricorsi, perché saranno presentati dall'opposizione. Tu di ricorsi te ne intendi un po', dai. Ma il PD, ne ho fatti tanti, ne ho pure subiti, ma il PD esiste a prescindere. Abbiamo detto che questa campagna elettorale si sarebbe caratterizzata per parte nostra con la volontà di costruire il gruppo del Partito Democratico, abbiamo eletto nelle due liste di riferimento quattro consiglieri, con tre di questi faremo il gruppo. Uno verrà dato che è tra l'altro vicino a me, ma vicino alle nostre posizioni per consentire la creazione di un altro gruppo, verrà... Immagino tu stia parlando di Giovanni Parisi. Esattamente, verrà dato a un'altra formazione politica, a un'altra lista civica per consentire legittimamente la formazione di un altro gruppo, perché poi il PD vuole essere centrale nella coalizione, vuole favorire il rafforzamento di questa coalizione, non vuole cannibalizzare nessuno, ma vuole crescere insieme a questa coalizione. Dunque vuole essere disprone per migliorare la qualità della nostra attività amministrativa. E in questo, devo dire la verità, abbiamo una grande qualità da mettere in campo e penso che saremo veramente centrali nel prossimo Consiglio Comunale e anche nella prossima amministrazione. Chiudiamo. Mi facevano notare ieri alcuni cittadini che... tu sei deputato nazionale, lo so che non c'entri nulla, ma sei ancora, diciamo, comunque politicamente non solo vicino all'amministrazione. Assolutamente, mi sento un amministratore di questa città. Esattamente, da tranquillità, quindi ti faccio la domanda. Dico, mi dicono i nostri cittadini, ma durante la campagna entro abbiamo visto la città bucchera toppate, ora ci sembra che tutto sia finito, non c'è più nulla in città. Che cos'è la sua? Ma no, non è così. Allora, bisogna... io lo capisco che è difficile spiegare e comprendere tutti i meandi dei procedimenti amministrativi. Io me lo sono fatto spiegare, anch'io evidentemente, però ovviamente conoscendo il sistema sono in condizione, diciamo, di ripeterlo. E i lavori sono stati fatti e sono finiti in occasione della campagna elettorale perché per una questione burocratica erano rimasti bloccati dei fondi nei residui. Una volta approvati i cosiddetti residui, cioè quello che proviene dagli anni precedenti, è stato possibile procedere ai lavori e adesso sono stati fatti. Sono stati fatti i lavori di diserbo, i lavori di rattoppo, ma adesso è chiaro che la Giunta ha approvato il consuntivo, a breve approverà il bilancio preventivo e si procederà con i nuovi lavori perché nel bilancio ci sono i soldi per i nuovi lavori. Devo dire la verità che in queste settimane, per esempio, la Giunta, gli uffici hanno approvato le gare per mettere in progettazione 20 milioni di euro di lavori di rigenerazione urbana, un finanziamento statale sul PNRR che porterà ad avere i nuovi impianti sportivi, che porterà ad avere le mura di tramontane recuperate, che porterà ad avere il palazzo da lì recuperato e musealizzato, tutta una serie di cose che si è corso per arrivare a metterli in campo ed averli di qui al 2026 pronti nel rispetto delle scadenze del PNRR. È un lavoro che si procede per gradi. Qualcuno mi ha domandato ma perché adesso state e stanno a... hanno riaperto la piscina olimpionica? Non è che l'hanno riaperta ora, è frutto di un lavoro che si è fatto nei mesi precedenti e che adesso viene a compimento. Perché adesso si stanno levando le transzende dal campo coni e si riaprirà il blocco B? Perché c'è un lavoro alle spalle e c'è un'amministrazione che con rinnovato slancio sta completando tutte cose. I cinque anni precedenti, noi abbiamo sempre detto che i cinque anni precedenti abbiamo trovato poco o nulla e abbiamo costruito. Adesso che abbiamo costruito e pianificato siamo alla fase della realizzazione. Avete visto in queste ore ci sono i lavori, i lavori di i sondaggi che stanno facendo a Rione Cappuccinelli, che sono prevedeudici all'intervento da 30 milioni di euro. È uno step, la legge prevede tutta una serie di step e noi dobbiamo rispettarli. Non possiamo pensare di bypassare alcuni passaggi. Va bene, onorevole, grazie. Ora arriverà in studio un poeta maledetto, un giovane trentenne, insomma, che ne ha di cosa so. Uno di quelli che studiano proprio. Studiare è importante, no? Io mi auguro che possa rimanere qui in questa città e che possa contribuire alla sua crescita, anche culturale. Assolutamente. Dipende anche, non solo da lui, ma dipende anche da chi... Ma su questo abbiamo fatto un gran lavoro. Abbiamo salvato il luio musicale, abbiamo salvato la biblioteca fardelliana, tutto con fondi comunali. Abbiamo rimesso in campo un'iniziativa culturale Trapani, città della lettura. Abbiamo rimesso in campo iniziative che abbiamo fatto il Trapani Film Festival, abbiamo contribuito a realizzarlo e ringrazio la triproduction che lo ha voluta in questa città. Dunque, abbiamo... Vasco Rossi, insomma. La gente vuole. E vabbè, ma probabilmente vedremo se le prossime iniziative imprenditoriali il Comune non può portare Vasco Rossi a Trapani, non ha le risorse, non sarebbe nemmeno giusto portarle a Trapani con le risorse comunali che servono per assicurare altri servizi. Ma il privato, speriamo nelle prossime iniziative private e speriamo che il Comune possa sostenere le iniziative private che vogliono portare Vasco Rossi a Trapani. Siccome credo di aver saputo, di aver decifrato, insomma, fra le righe a chi ti riferisci, ti vedremo sia al palasporto che allo stadio? Ma io sono un uomo di sport. Vabbè, appunto, è ancora presente del ciclo del tennis. Quindi, sono un uomo di sport e ho frequentato la pallacanestro, ho frequentato il calcio, devo dire la verità che sono più appassionato di pallacanestro che di calcio. Ci sono stati 12 anni bellissimi di pallacanestro a Trapani, spero che queste vicende si possano chiudere nel modo migliore. Non penso mai che il Tribunale sia la soluzione ai problemi, penso che sedersi intorno a un tavolo sia sempre la migliore delle soluzioni e l'unica alternativa da perseguire. È chiaro che ovviamente poi ognuno tutelerà i propri diritti, ma mi auguro che si possa pervenire una soluzione, che possa vedere la pallacanestro di alto livello a Trapani e che possa vedere il riconosciuto del ruolo di tutti, quindi di Basciano e anche di Antonini. Grazie onorevole Della Safina, è stato con noi il deputato regionale del Partito Democratico, lo ringraziamo, gli auguriamo un buon lavoro e ogni tanto, come avete capito, non lui, ma tutti quelli che almeno vogliono venire, li controlliamo per quello che è il nostro ruolo, per capire come lavorano e se lavorano. Bocca al lupo davvero. Bocca al lupo a voi, buona serata. E buona estata, ci rivediamo. E adesso parliamo di poesia, nella seconda parte di Res Pubblica Sicilia chiama Europa. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 di poesie che hanno un tema comune, come dice lui stesso, adesso glielo facciano spiegare, in realtà sarebbero un unico libro suddiviso in due parti perché e per come nasce questa collezione appunto di pensieri e di sentimenti e il motivo ovviamente è l'oggetto di questa nostra trasmissione. Benvenuto Roberto grazie per aver accettato il nostro invito ti restituisco i libri in tanti e ogni tanto li facciamo vedere quando li menzioniamo presentiamoci, quanti anni hai Roberto? Allora ho 31 anni attualmente sono uno studente oltre che uno scrittore in erba diciamo nelle prime esperienze e cerco di dipingere, di fatti anche i quadri sono produzioni mie connesse al progetto in questione sostanzialmente Ma ti sei ritrovato per caso a scrivere poesie o è qualcosa che... Non è qualcosa di... è qualcosa di ormai da più di dieci anni che nella mia quotidianità cerco di mandare avanti questo segreto perché poi si vive come un segreto l'arte questo tipo di arte in particolare dicevi bisogna avere coraggio per pubblicare c'è uno scrittore siciliano Elio Vittorini che nell'introduzione al Garofano Rosso scrive pubblicare una questione di umiltà bisogna mettere fuori quello che si è scritto e ci si vergogna di quello che si scrive perché ci si metta a nudo e questa affermazione è sicuramente vera per questi due libri che parlano di... devi parlare leggermente più forte cioè io ho una certa età poi non posso se da casa ci sento sì sì sono le sigarette che mi danno questo tono aspettiamo di fumare beh è il tono un po' del poeta maledetto riflettere pensare giustamente su questa sua sì più che altro quello di cui si parla è un po' la mia maledizione quindi è normale che mi cali il tono comunque l'evento che sta alla base di questi due libri è la morte ed è la morte di una persona molto cara il mio maestro mia madre la persona che mi ha portato qui e che mi ha insegnato tutto quello che so come cerco di spiegare nei libri sono due fasi di questa esperienza infatti la dolce stagione è un libro che ho scritto quando ancora la morte doveva arrivare diciamo la morte è una paura è qualcosa che si aspetta si immagina si cerca di immaginare continuamente mai in modo preciso però è sempre sfuggente quanti anni avevi quando l'hai scritto? questo libro l'ho iniziato a scrivere dai 24 anni poteva avere è stato un lavoro lungo sono tornato molte volte su questo libro in particolare sulla la dolce stagione è un libro che mi ha preso molto tempo ci sono liriche che risalgono al 2016 rielaborate nel tempo con la maturità tra virgolette linguistica la consapevolezza letteraria e la consapevolezza di un evento inesorabile appunto mentre la stagione oscura è un libro molto più repentino nel senso nasce nei mesi successivi alla morte di mia madre ed è non dico una conclusione del ragionamento ma è una fase critica particolarmente critica è un'opera molto eterogenea la seconda mentre il primo è una raccolta di poesie dove la prosa magari entra marginalmente per spiegare nel secondo libro specchio e metafora del dolore c'è un'eterogeneità anche molti altri lettori prima della pubblicazione tutti i lettori prima della pubblicazione di varie categorie sia insegnanti universitari che poeti che altre persone anche meno interne all'ambito della letteratura hanno criticato tra virgolette l'aspetto eterogeneo della stagione oscura perché nella stagione oscura c'è una prima parte che è una piccola silloge di sonetti quindi anche una forma se si vuole molto arcaica che è originaria nella lirica siciliana tra l'altro la scuola poetica siciliana Giacomo Dalentini nel 1200 forse l'ideatore diciamo del sonetto quindi anche un riferimento alla nostra storia la Sicilia capite già dalla prima anche timida volendo presentazione Roberto è uno che ha studiato certamente insomma l'arte della della poetica in generale quindi è un ricercatore appunto come lo stesso definiscono studiose insomma della lingua e delle molteplici dei molteplici forme di espressione esattamente le forme di espressione della lingua italiana per cui c'è una ricerca anche nella trascrivere no? sì sono entrambe l'importanza di queste ci sono due aspetti fondamentali nel senso da una parte c'è l'elaborazione del dolore che è l'aspetto specifico diciamo quello che si manifesta è davvero perspicuo nei libri questo aspetto l'aspetto un po' più sotterraneo riguarda sicuramente l'elaborazione linguistica la dolce stagione è un libro che in un certo senso pecca di classicismo che cosa voglio dire devo scontare in questo libro ho dovuto scontare me ne accorgo ora che è passata questa esperienza tutta una serie di stilemi linguaggi forme di espressione che in un certo senso non vedevo nella loro forma contemporanea perché ancora vivevo nella bolla della paura nella bolla sono specchio di entrambe le due diciamo l'esperienza si scende il letterato e la persona che vive l'esperienza sono la stessa persona e al tempo stesso c'è questa schizofrenia se si vuole che i libri cercano di riportare insieme senti scrivere poesie tu hai accennato appunto al dolore che ha alla preoccupazione alle paure e poi al dolore che ti ha portato a gettare appunto l'anima dentro i tuoi versi ma è anche un modo per autopsicanalizzarsi per la coscienza una delle cose più belle che mi hanno detto soprattutto riguarda la stagione oscura una delle case editrici che mi ha fatto una proposta ma che ho deciso di rifiutare per quest'altra case editrice con cui ho pubblicato mi disse è un'opera che non ha un punto di arrivo perché appunto l'eterogenità come dicevo prima è anche una metafora del dolore quando uno è nel pieno del dolore non è questo quello ma è continuamente questo quello e quell'altro perché non c'è un punto fermo che riesci a tenere perché dentro niente va bene perché non sia quello che si vuole ovviamente ovviamente quando si affronta un'esperienza critica come dover perdere quello che si ama di più tutto viene messo in discussione il libro vuole rappresentare questo soprattutto il secondo l'insieme dei due libri dire che diciamo non sono il libro uno il libro due questo sarebbe un errore perché entrambi i libri possono essere letti a sé stanti anche prima uno e poi l'altro non è importante la sequenza perché in ogni libro è presente un'introduzione in prosa una pagina di diario nel primo una e-mail un'insegnante il secondo che introduce e dà quelle coordinate specifiche di vita di ragionamenti che inquadrano tutte quelle espressioni linguistiche che sono le poesie in cui sostanzialmente le occasioni vengono a mancare in un certo senso come se io volessi porre le occasioni all'inizio per poi rimuovere tutte le occasioni e lasciare soltanto i resti delle occasioni gli ossidi seppi a dire ben mentale senti quando ti ritrovi a parlare con gli amici no che pensano di questa tua caratteristica intima mi sembri un ragazzo molto non dico sicuro ma certamente chiuso in una sicurezza dell'anima almeno così in questi pochi minuti mi sembra che tu mi stia trasmettendo questo poi non so magari sei un piacione o un casinista a occhio no un po' diciamo la maledizione porta al ribellione quindi se uno si vive la maledizione appieno arriva anche a essere ribelle su come mi tratta la gente questo appunto è un segreto nel senso la scrittura diventa un segreto io poche persone ho fatto parte di questo di questa esperienza di questa esperienza è qualcosa di antistorico se posso se posso dare questa definizione la poesia risulta antistorica certo nell'era dei reel in 30 secondi nell'era di ma più che altro penso che comincia ad essere antistorica già è una questione che riguarda l'economia la poesia come dicevamo io sono in cerca di non ho una mia posizione specifica all'interno di questa storia diciamola in questo modo questo è perché la poesia spinge spinge l'autore verso un limite e spinge a superare quel limite che rende l'autore se si vuole questo termine sacro la sacralità dell'autore è proprio questa sua irriducibilità nella collettività proprio per poter arrivare lì dove non ci si può arrivare quotidianamente altrimenti si tratterebbe di pazzia questi picchi di pazzia che è lo studio che è soprattutto la poesia è lo studio l'importanza dello studio dove sta perché è fondamentale per un artista studiare perché lo studio è una raccolta di esperienze di elementi più eccellenti che sono venuti prima di noi e che hanno determinato questo momento tantissimo quanto gli altri eventi naturali per dire e questi autori hanno dovuto affrontare questi stessi problemi che noi affrontiamo adesso hanno dato a chi è in grado di seguirli dei suggerimenti perché diventare un autore di questo tipo ha un peso nella tua vita quotidiana che non puoi condividere con nessuno perché appunto la sicurezza di cui parlavi ha a che fare con i limiti superati all'interno di sé per vedere cosa c'è dentro di sé la lingua è fondamentale un altro autore della nostra terra di cui io sono orgoglioso che è Gesualdo Bufalino io sono veramente orgoglioso di essere un conterraneo di Gesualdo Bufalino lui dice parla di esperanto pubblicitario esperanto pubblicitario ora quando cominciai a scrivere anni fa mi avvicinai alla poesia però leggendo i miei lavori mi accorgevo che c'era qualcosa di superficiale appunto di pubblicitario la mia lingua non andava bene per me stesso per quello che io mi ero prefissato per gli obiettivi che volevo raggiungere e allora lì è iniziato un periodo è un percorso molto lungo che dura tuttora di studio che non è altro che ricerca della parola affinché questa diventi sempre più sottile sempre più precisa sempre più affine affilata cosa è la filosofia contemporanea di voi poeti? diciamo che io penso che filosofia contemporanea di poeti sia paradossale base perché proprio è storico il poeta io posso parlarti di me io non conosco con qualche altro poeta con cui sono in contatto non della mia generazione anche più grande di me con cui mi è capitato di sentirmi con cui tuttora mi sento ci sono ma tu scusami tu proprio cioè ti definisci poeta sì nel senso è questa la tua strada è quello che noto è quello che ho desunto proprio osservando le mie azioni ok alla fine quando uno scrive dire poeta dire scrittore dire autore io mi definisco autore nel senso non perché poeta mi sia stretto ma perché penso che poeta è come un titolo d'onore è la corona dal loro poeta ancora non ti senti diciamo però devono essere gli altri il poeta è quello che cambia le cose esatto perché il poeta è una figura sociale non è qualcosa di io me la vivo individualmente proprio perché il poeta è a storico quindi non trova il suo il suo corrispettivo nella società non c'è la non c'è l'imprenditore è l'uomo dei tempi non il poeta il poeta era l'uomo dell'antichità una volta perché c'erano altre categorie ora ci sono categorie diverse e le piazze infatti vengono dedicate agli imprenditori non ai poeti che questo è tutto dire sui nostri tempi ma quindi la filosofia che c'è dietro la filosofia che c'è dietro è la filosofia dell'uomo contemporaneo io la sto esplorando c'è una filosofia collettiva se si vuole non c'è più un cristianesimo generalizzato sicuramente nel mondo contemporaneo io non mi posso definire cristiano non posso nemmeno definirmi ateo però perché credere che non ci sia o credere che ci sia è già un problema superato quindi reputo che un altro dei compiti del poeta sia cercare di indagare l'emotività che noi riceviamo dalla collettività perché noi veniamo istruiti io sono stato a scuola quindi so bene la scuola che cos'è è un'opera di indottrinamento c'è una cultura egemonica come diceva Gramsci cito Gramsci quindi è una cultura subalterna anzi infinite culture subalterne è una che riesce a emergere da questa da questa gran confusione che di solito è la cultura del potere che di solito parla una lingua selezionata in certi ambienti quindi quando noi entriamo nel linguaggio perché questo è un segreto del linguaggio se noi entriamo nel linguaggio ci accorgiamo che dire verità e dire non verità si entra in un ambito assolutamente sì quindi la poesia mi ha aiutato soprattutto su questo su comprendere questa ambiguità e a Trapani come si estrinseca questa necessità? a Trapani si estrinseca nella solitudine a Trapani si estrinseca nella ribellione noi siamo noi abbiamo un'altra schizofrenia qua a Trapani noi siamo un luogo meraviglioso guardo anche qua nelle grafiche dello studio abbiamo alle spalle in Monte Erice anche Ovidio parla di Erice se uno va a leggersi Ovidio trova Erice citato davanti abbiamo Legati dove ci sono state guerre antichissime abbiamo un sole meraviglioso dei colori fantastici che io nonostante il dolore cerco di portare nelle mie rappresentazioni però siamo una provincia non siamo più il centro dell'impero da millenni direi a questo si vede soprattutto qua da noi che siamo la provincia di una provincia e l'arte in realtà fiorisce dove dove sta il potere questo è il problema dell'arte perché alla fine gli artisti la necessità dei mecenati continua ad essere principale c'è sempre soprattutto per i poeti soprattutto per i poeti che non hanno in realtà se non nicchie di interesse non possono godere del mainstream perché la poesia non ha niente a che vedere con questa realtà ma tu partecipi a concorsi di poesia ce ne sono diversi insomma ovviamente al nostro piccolo anche dalle nostre parti io ho avuto diciamo funziona a fasi dipende dalla fase se sono in una fase creativa quindi c'è un processo creativo in atto come questo dove sicuramente un libro è un progetto ma una sequenza di libri è un altro tipo di progetto una sequenza di libri è una sequenza di quadri è un altro tipo di progetto ancora che richiede certi tipi di energie e in questi momenti è molto difficile dedicarsi ad altro io sicuramente partecipo invio dei componimenti a riviste perché comunque questa è la gavetta che deve fare per guadagnarsi il titolo giusto? il titolo è sociale uno solo deve guadagnare quindi su questo sicuramente cerco di di muovermi come posso però in questa fase ci sono impegni più grossi per me che è la mia immagine sociale diciamo a parte questo evento che è un po' un unicum diciamo sono molto schivo perché quello che mi sono prefissato di fare mi risulta io sono invadente e te lo chiedo cosa ti sei prefissato di fare? ok io non diciamo ne parlo qui un po' per la prima volta perché non ho mai esplicitato quest'idea a qualcun altro a qualcun altro che non sia molto vicino non sei costretto guarda no no assolutamente però magari posso la colgo sì sì la colgo come un'occasione non diciamo che ho avuto relativamente modo di parlare di questi libri e di ciò che sta dietro io nella mia mente so perché lo vedo nella mia esperienza quotidiana che l'argomento che ho deciso di affrontare anzi il doppio argomento che è l'argomento dell'elaborazione linguistica e l'argomento dell'elaborazione del lutto quindi due elaborazioni lo strumento che elabora e l'oggetto che viene elaborato insieme io non lo sento finito dentro di me e ci sono alcune fasi che devo ancora elaborare non soltanto a livello linguistico perché bisogna aggiungere anche il filtro dell'immagine quindi la rappresentazione di un quadro senti sei una specie di psicopompo moderno cioè un che non so un osiride che ritorna negli inferi e poi resusca anche se lui è morto rinasce Horus Orfeo Orfeo che va a cercare la sua Ercole certamente il giro negli inferi per tutti quelli che affrontano ora fuori dall'immagine perché il mondo antico era molto più serio di quanto noi crediamo diciamo e sono dei linguaggi metaforici che parlano qualunque eroe se vogliamo utilizzarle in questi termini alla fine il personaggio io ho scelto per potermi appassionare alla mia vita di far di me un personaggio ma questo non sono io ovviamente questa è una selezione di me una selezione di cose io stesso non mi sento più nemmeno l'autore di questo libro li guardo come distanti da me perché l'elaborazione è in atto ed è facile prendere distanza da ciò che si è fatti sicuramente indubbiamente per la mia storia così come per la storia degli eroi di cui tu hai parlato la discesa negli inferi non è una scelta se si vuole elaborare se si vuole superare soprattutto se si vuole affrontare se uno affronta un problema come questo cioè la perdita di una delle persone più importanti per la propria vita purtroppo ognuno di noi è destinato a questo anche se ama soltanto se stesso prima o poi si perderà è qualcosa che costringe l'interiorità a scendere in quello che il cristianesimo poi definisce l'inferno e Dante poi porta nel purgatorio e nel paradiso tanti poeti arrivano a questo ragionamento perché c'è qualcosa che è intrinseca nella poesia è che la disperazione che spinge verso la poesia la solitudine che spinge dentro la poesia io non parlo con le persone della mia poesia perché poche persone mi sono rimaste vicino sia per il dolore sia per la poesia beh così però non funziona però bene non funziona in questa fase ma nelle fasi più difficili io penso che ogni progetto che si rispetti ha delle fasi terribili terribili ma immagino tu stai portando avanti un progetto sai bene quanto è terribile quando arrivano le fasi terribili io penso che sia quello il momento in cui non gettare la spugna a maggior ragione io non vengo da solo non vengo per me io non so c'è un'altra sedia vuota mi sembra questo fa parte la sedia però la prendiamo come simbolo certo è un simbolo poteva non essere lo è io non vengo per me io vengo per per mia madre per parlare anche di lei perché lei è il mio nome tutelare cioè la persona che mi ha introdotto all'arte e che mi ha introdotto alla morte quindi sono due cose che qui sono insieme Roberto io mi sento visto che sono stato evadente prima adesso dall'altro della mia età insomma se rispetto a me potesse essere davvero mio figlio insomma hai 31 hai detto leggermente più giovane leggermente 31 31 quindi beh in 52 esatto è un bel po' è un bel po' di differenza mi sento di dirti che secondo me bisognerebbe trovare dovresti trovarlo tu non so come funziona in questo ambiente ma il modo per renderle pubbliche queste cose non solo attraverso la pubblicazione editoriale proprio ma con degli incontri con dei cenacoli in qualche maniera con dei meeting è arrivato il tempo non tanto che tu faccia renda pubblici i tuoi demoni e le tue dette interiori ma che attraverso la tua passione altri possano prenderla come stimolo e proseguire in una strada poi tu hai detto qualcosa che mi piace tantissimo cioè stai studiando appunto ancora devi elaborare per vedere la risposta che ti stavo dando lei ha introdotto la risposta che ti stavo dando hai visto e chiudiamo così poi sicuramente è una fase quella di poi portare fuori ma finché non ho elaborato io non posso porterei fuori qualcosa di non adeguato non adeguato secondo il mio giudizio ovviamente io sono mi definisco l'autore perché io do il giudizio ultimo su queste cose umilmente l'autore di queste cose quindi io aspetto il momento giusto ma nel senso cerco di crearlo il momento giusto però il senso Dante poi ricusò la sua stessa Divina Commedia non gli piacco ma penso che quando uno si libera dei propri demoni e la Divina Commedia è una sequenza di demoni molto molto ingombranti poi prende una volta che ti guardi da fuori è facile anche Tolstoi è una persona che continuamente separa se stesso da tutto ciò che si supera ci si distanzia da sé come ti dicevo anche per questo libro nel senso anche questi entrambi i libri io non mi sento più la persona che ha scritto queste cose perché l'elaborazione ha questo malus è un padre ingrato in un certo senso dove li troviamo questi libri intanto che vogliamo conoscerti un po' di più si trovano sugli store online sia sulla Mondadori anche su Amazon sono possibili da trovare immagino c'è una pagina Facebook sui social sei magari poco presente ma ci sei ti si può contattare si si su WordPress mi si trova sono un unico elaborato suddiviso in due parti c'è un prima e c'è un durante a questo punto perché ancora appunto stiamo elaborando la stagione la dolce stagione autore Roberto Fontana e la stagione oscura sempre Roberto Fontana i due li trovate sugli store online negli store online vale che va insomma scrivetegli su Facebook su Instagram non so in quali social lui sia presente che in qualche maniera se volete leggervi ve lo consiglio davvero perché sono non solo dei versi ma sono anche dei momenti per leggere dentro di noi prima di intervistarlo ovviamente ho avuto la fortuna di leggere due libri quindi qualcosa mi è rimasto altrimenti non l'avrei fatto venire grazie Roberto bocca al lupo e ci sentiamo grazie spero un giorno di poterti davvero singere la mano come poeta riconosciuto a livello nazionale internazionale intanto per me già lo sei quindi grazie accontentati di questo è stato con noi Roberto Fontana poeta e questa è stata Respubblica Sicilia chiama Europa